Benvenuti tutti in questo emozionante video promozionale di Stop Mole. Se avete un giardino e siete stanchi di dover affrontare quelle fastidiose talpe e altri mammiferi scavatori, siete nel posto giusto. Oggi vi presentiamo Stop Mole, la soluzione rivoluzionaria che farà scomparire quei visitatori indesiderati dal vostro giardino in un batter d'occhio. E quando diciamo veloce, intendiamo appena 5 minuti dopo che le talpe avranno ingerito il prodotto. Ma come è possibile? La formula unica di Stop Mole include una pasta ultra attraente appositamente progettata per le talpe. Una volta che assaggiano questa esca irresistibile, non potranno resistere. Il bello è che le talpe non percepiranno il veleno nella pasta. Non ci sarà alcuna avversione al gusto che le spingerà ad evitarla. Quindi potranno mangiare senza preoccupazioni. E sapete che con una sola confezione di Stop Mole avrete a disposizione 500 esche. Abbastanza per eliminare fino a 500 talpe. Un modo economico ed efficace per mantenere il vostro giardino libero da questi intrusi. E, cosa più importante, Stop Mole è sicuro sia per voi che per gli abitanti della vostra casa. Potete usarlo con tranquillità, sapendo di essere protetti. L'efficacia di Stop Mole è imbattibile. Una volta applicato, il suo effetto dura fino a 12 mesi. Un intero anno di tranquillità per il vostro giardino. Ma non è tutto. Stop Mole è versatile e adatto non solo alle talpe, ma anche a marmotte, tassi, topi di campo, arvicole e altri mammiferi scavatori. Una soluzione completa per il vostro giardino. L'applicazione è un gioco da ragazzi. Localizzate le gallerie delle talpe, fate alcuni buchi e posizionate le esche all'interno. Coprite i buchi con terra e il gioco è fatto. Un ultimo consiglio. Dopo aver usato Stop Mole, ricordatevi di lavarvi le mani. Un piccolo dettaglio per mantenervi al sicuro. Stop Mole è la risposta ai vostri problemi di talpe e mammiferi scavatori. Con la sua efficacia comprovata, la sicurezza garantita e un rapporto qualità-prezzo imbattibile. Stop Mole diventa l'alleato perfetto per mantenere il vostro giardino in condizioni ottimali. Dite addio alle talpe e date il benvenuto a un giardino impeccabile. Grazie per esservi uniti a noi in questo emozionante viaggio. Ricordate, Stop Mole è la soluzione che stavate aspettando.